Ogni volta che Radamel Falcao segnava un gol, ruggiva più forte di tutti. Ciò che sa fare meglio, sfondare la porta con la palla. In tutti i modi. Tutti sapevano che Rada aveva qualcosa di speciale, ha mostrato sin da piccolo il suo innato senso del gol. E il suo debutto nel River Plate è stato qualcosa dell'altro mondo. Un inizio con un repertorio da pelle d'oca. E il bello doveva ancora arrivare. La sua carriera in Europa può essere considerata una autentica follia. Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Monaco, Galatasaray e Rayo Vallejano. Falcao è eterno. E se non mi credete, la sua tappa nella nazionale colombiana lo conferma. Radamel Falcao García è uno dei migliori futbolisti che ha dato il fútbol colombiano, se non il miglior. Credo che comparte podio junto al piede Valderrama e James Rodríguez. Però è un'altra cosa speciale che lo diferencia un po' a loro e è il suo carismo. A parte di essere un gran futbolista, di essere il goleador storico della selezione colombiana, di aver levato la bandera di Colombia in alto, in Europa, in il fútbol europeo, soprattutto nel Atlético di Madrid, è una gran persona, un gran ser humano e lo demuestra ogni giorno. Santi va a levantar la brota per il centro. Radamel, il golazo! Gol di Colombia, gol di Colombia, di Colombia, di mi patria, di mio paese! Otra vez usted, mi Rada, Radamel Falcao García, nostro goleador, Radapapa. Radamel Falcao è un idolo.